Esercizio 8, pagina 11, posizione del Sol, vado, Sol da 4, esercizio 9, Sol, La, Sol, pausa da 1, esercizio 10, Sol, La, Si, Esercizio 11, possiamo inquadrare il tablet, allora, questa nota pancia vuota senza stanghetta dura 4 battiti, questa 4 battiti, 1, 2, 3, 4, questa pancia piena e stanghetta un battito, e questa pancia vuota con la stanghetta, 2 battiti.